Lì ho dovuto fermarmi qui in parte della strada, diciamo tra il bosco e la strada per far sentire sia il climatizzatore che il subwoofer, la radio e la canzone sentiamo insieme senti eh ed è al minimo eh sì, non per dire Studio Nord Anthology, buon viaggio con le migliori song internazionali di tutti i tempi Qui abbiamo l'appunto Fiat Punto 1200, non si vende più, va benissimo, ho aggiustata io, due giorni di duro lavoro ho aperto il coprivalvole, ho pulito le cam, ho pulito i cuscinetti con il svitol adesso proseguo il viaggio, probabilmente andrò a testarla fino a grado, grado vecchia sapete dov'è grado vecchia? No eh qui in Carnia stanno tutti sopra le montagne a vedere cosa, i fiumi io vado al mare, io vado e torno, ma la gente, nessuno lo sa io sono vipissimo, guarda che bei capelli che ho, me li sono fatti anche quelli da solo e ho messo la lacca per donne